E' cambiato decisamente il passo dell'economia. Prima c'era un'economia solida, oggi c'è un'economia di carta che come vedete non porta da nessuna parte. Non poteva mancare anche ad Arezzo la presentazione del libro di Gianluigi Paragone, Gang Bank. Gran parte dell'ispirazione è stata anche la vicenda dell'ormai ex Banca Etruria. Ma la matrice di questi fallimenti è una matrice che è comune a tutti. Avendo cambiato il paradigma della finanza, quello che era il risparmiatore è diventato un prodotto. Quindi il cittadino è nudo di diritti e pertanto si trasferisce sul cittadino la responsabilità di un qualcosa che non ha commesso coscientemente. Infatti cominciano a chiamarli speculatori e questa non solo è una barzelletta, non solo è ridicolo ma è appunto una trasgressione della Costituzione. La serata che ha visto la presenza anche del Comitato Azzerati del Salva Banche era organizzata dall'Associazione Arettina Cultura Nazionale che vede come presidente Cristiano Romani. La scelta della locanda di San Pierpiccolo ad Arezzo di sicuro non è stata casuale. È una grande serata in una location come vedrete molto bella, un posto esclusivo all'interno di Arezzo e quindi ancora una volta cultura nazionale protagonista della cultura ad Arezzo.